Volevo leggere Colossesi 1.13, dice, vi do tempo da cercare, che ha Colossesi 1.13, dice, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine di Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui, scusatemi. Amen? Penso che ci sono più di un motivo per lodare al Signore. Lo vogliamo fare insieme? Ci mettiamo in piedi, per favore? Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sono state create. Io tu seguo nella tua fedeltà e me sempre Continuiamo con questo momento di adorazione e prima di passare il momento di adorazione attraverso le nostre preghiere vi volevo leggere un articolo che ho trovato un po' di mesi fa che racconta la storia di un pilota di aerei l'ho trovato sul giornale e dopo l'ho trovato anche su internet questo è successo nel 2008 a Londra e adesso prima vi leggerò quello che c'era scritto sul giornale e poi lo sentiremo Sì, scusatemi, sedetemi Chiedo scusa, sono alle prime armi di questo ruolo spero che sappiate capire Allora, vi leggo questo che ho trovato nel giornale poi sentiremo l'audio video che è molto interessante quello che è capitato a questo pilota Pilota perde la vista in volo Londra, 8 novembre 2008 un pilota britannico che ha avuto un infarto ha perso la vista mentre era in volo è stato guidato nell'atterraggio da un pilota militare l'ha annunciato la RAF Royal Air Force l'aviazione militare britannica Jim O'Neill, non so se lo pronuncio bene scusatemi anche su questo ha chiesto aiuto dopo che improvvisamente ha perso la vista 40 minuti dopo il decollo durante un volo in solitario dalla scossia del sud-est dell'Ingliterra secondo la BBC O'Neill il pilota questo che ha perso la vista che si trovava a bordo di un piccolo Cessna ha perso la vista a 5.500 piedi 1.676 metri di altezza il pilota ha detto questo è stato terribile ha detto il pilota improvvisamente non riuscivo a vedere il quadrante davanti a me io ho trovato il video di questo che è capitato ho chiesto al pastore Fabiano se me lo potrebbe tradurre perché è in inglese e li vorrevo far sentire parla da solo vai è come se fosse nella curva finale per il circuito ok continua a scendere dolcemente svolta a sinistra è come se fosse nella curva finale per il circuito ok continua a scendere dolcemente svolta a sinistra continua a scendere continuando a girare a destra esvoltando a destra continua a girare a destra proprio sul retro girando a destra girando girando a destra passa a sinistra passa a sinistra continua a venire a sinistra continua a venire a sinistra più deciso e girando fuori guardando avanti dovresti riuscire a vedere la pista non livellare continua a scendere continua a puntare il naso verso il basso per favore una visuale della passerella dovrebbe della pista dovrebbe essere proprio a mezzogiorno adesso vedi la pista no signore mi dispiace davvero nessun problema e mi confermi che sei su un aereo ok continua a scendere continua a andare dritto sei puntato direttamente sulla pista la vedi adesso no signore quindi non riesci a vedere la pista non riesco a vedere la pista adesso è quasi sotto il tuo naso guardi avanti proprio sotto il naso continua a scendere ho capito signore grazie adesso sei al sicuro mi hai guidato fino alla fine non volevo aggiungere niente altro l'ho paragonato un po' a quello che è la mia vita la nostra vita penso di come il signore ci guida in ogni circostanza io sentivo questo pilota diciamo che era nella torre di controllo che guidava questo altro pilota d'aereo e sentivo quelle parole dolci quelle parole di tranquillità che dice piano piano vedi la pista no le diceva il pilota che era sull'aereo no non la vedo perché non non vedeva niente no e sentivo queste parole dolce queste parole di conforto di incoraggiamento no perché cercate di capire il momento no non vedere per atterrare con l'aereo e veramente l'ho paragonato alla mia vita la dolcezza e l'amore che ha il signore per ognuno di noi e io vi invito a non rimanere magari poche parole non c'è bisogno di grandi discorsi il signore è qua con noi e ci vuole parlare ci vuole benedire abbiamo tutti dei problemi delle difficoltà ma questo è il momento per ringraziarlo per quello che ha fatto e farà nelle nostre vite amén amén padre ti ringrazio per questo momento padre che ci doni di poter stare davanti alla tua presenza noi non siamo nessuno padre siamo padre persone che amano seguire te con tutte le difficoltà del mondo grazie perché tu sei in mezzo a noi e so che parlerai a nostri cuori padre attraverso la preghiera attraverso la predicazione e attraverso altri mezzi padre grazie per la tua presenza nel nome di Gesù amén cari fratelli vi saluto nell'amore del Signore amén è una gioia che noi possiamo essere qui questa mattina a lodare a ringraziare il Signore ascoltare anche la sua parola e quindi è una grande gioia assolutamente anche per i nostri cari tutti voi che siete qui allora c'è una cosa che bisogna chiarire sin da subito la vita cristiana non è come andare al Mirabilandia non è un playground non è una passeggiata la vita con Cristo vuol dire che noi dobbiamo affrontare tante difficoltà nel percorso mentre noi stiamo a camminare con Cristo è vero che la salvezza è gratis ma seguire il nostro Signore vuol dire che noi attraverseremo attraverseremo delle montagne attraverseremo delle valle e ci sono tante circostanze si potrebbe fare veramente un elenco la cosa importante è che quando noi pensiamo agli apostoli quelli che sono stati con Cristo Gesù loro sin dall'inizio hanno verificato che non era facile seguire il Signore Gesù Cristo era morto era stato seppellito risorto era salito in cielo e loro erano a Gerusalemme viene atti capitolo 2 la discesa dello Spirito Santo e incominciano a predicare con potenza la parola di Dio incomincia a espandersi nella serata della Pentecoste e della discesa dello Spirito Santo la Bibbia racconta che almeno 3.000 persone si sono convertite a Cristo sono state battezzate e gli apostoli dopo questo grande avvenimento cosa hanno fatto hanno continuato a predicare Cristo però nel predicare Cristo c'è un'altra cosa estraordinaria che successe proprio all'entrata del Tempio quando lì a Gerusalemme Pietro e Giovanni guardando questo paralitico che chiedeva l'elemosina diceva dammi del soldo dammi del soldo un uomo che non aveva mai camminato nella sua vita allora Pietro e Giovanni guardando lui ha detto guarda noi non abbiamo una lira in tasca non abbiamo né oro né argento però quello che io ho io te lo do nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina Pietro ha steso la mano lo ha afferrato questo uomo che non aveva mai camminato nella sua vita che tutta Gerusalemme lo conosceva perché si trovava alla porta del Tempio allora praticamente tutti hanno visto che questo uomo non solo camminava ma saltava e dava gloria a Dio e tutti quanti hanno vissuto felici e contenti amen apriati capitolo 4 e vedi che cosa è successo allora lì incominciano le prove di questi uomini che hanno predicato nel nome di Gesù Cristo questi uomini che sono stati usati da parte di Dio per realizzare un miracolo fatto nel nome di Gesù Cristo e noi vogliamo parlare ossia di questo tema che sono le prove o se possiamo così dire anche le persecuzioni Atti capitolo 4 dal versetto 1 libro di Atti scritto anche da Luca lui che ha scritto il Vangelo di Luca ma ha scritto anche Atti Atti capitolo 4 siamo all'inizio della Chiesa Primitiva e quindi ci danno delle lezioni esempi per la nostra vita oggi Atti 4 versetto 1 allora immagina questo hanno realizzato il miracolo nel nome di Gesù e che cosa è successo versetto 1 mentre essi parlavano al popolo giunsero i sacerdoti il capitano del tempio e i saducei indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente perché era già sera ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero e il numero degli uomini salì a circa 5.000 il giorno seguente i loro capi con gli anziani e gli iscrivi si riunirono a Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote Caifa Giovanni Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti versetto 7 e fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni domandarono con quale potere o in nome di chi avete fatto questo allora Pietro pieno di spirito santo disse loro capi del popolo e anziani se oggi siamo qui esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come questo uomo è stato guarito sia noto a tutti voi a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti e che per la sua virtù che questo uomo compare guarito in presenza vostra egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è diventata la pietra angolare versetto 12 molto importante in nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome perché sia dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati essi vista la franchezza di Pietro e Giovanni si meravigliarono avendo capito che erano popolani senza istruzione riconoscevano che erano stati con Gesù vedendo l'uomo che era stato guarito lì presente con loro non potevano dire niente in contrario ma dopo aver ordinato loro di uscire dal sinedrio si consultarono gli uni con gli altri dicendo che faremo a questi uomini che un evidente miracolo sia fatto permesso di loro è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non possiamo negarlo ma affinché ciò non si diffonda maggiormente il popolo al popolo tra il popolo scusate ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui e avendoli chiamati impossero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù ma Pietro e Giovanni risposero loro giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio quanto a noi noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite ed essi minacciateli di nuovo li lasciarono andare non trovando assolutamente come poterli punire a causa del popolo perché tutti glorificavano Dio per quello che era accaduto fermiamoci qui signore noi ti ringraziamo per la tua parola ti ringraziamo per la tua potenza ti ringraziamo per il tuo amore ti ringraziamo per la tua grazia ti ringraziamo signore perché la tua potenza di quel tempo è la stessa oggi sarà la stessa domani perché non c'è un altro nome in cui noi possiamo essere salvati non c'è un altro nome che manifesta guarigione salvezza liberazione che ci porta dalle tenebre alla luce che manifesta il regno di Dio nella nostra vita se non la persona di Cristo signore questa mattina io prego che nella tua grazia tu possa parlare ai nostri cuori e possa esortare noi a rimanere sempre saldi nella via del Signore nel nome di Gesù Amen allora cari ecco qua il brano quindi voi vedete loro hanno fatto un miracolo nel nome di Gesù eppure li hanno arrestati questo per far capire che la vita di un cristiano già per gli apostoli Gesù Cristo già aveva detto precedentemente mentre stava addestrando crescendo gli apostoli nella preparazione per l'apostolato ben appunto ha detto guarda se hanno perseguitato me che sono il maestro non perseguiteranno anche voi quindi Gesù già aveva preannunciato e quando vi porteranno davanti ai tribunali non vi preoccupate ha detto Gesù perché lo Spirito Santo vi ricorderà tutto quello che dovete dire e infatti noi vediamo anche questo però quale sono le lezioni che noi impariamo per la nostra vita dall'esempio di questi uomini che hanno affrontato una tale situazione e quello che io vorrei chiamare la nostra attenzione è che quello che è successo in Atti capitolo 4 è quello che può succedere oggi che può succedere domani e che probabilmente succederà nel futuro prossimo e il popolo di Dio deve essere sempre pronto a rimanere saldo nel Signore a prescindere delle difficoltà se c'è una pandemia o se c'è una persecuzione se c'è qualsiasi tipo di difficoltà ma guardiamo insieme quali sono questi insegnamenti o queste caratteristiche che questi uomini hanno avuto che noi dobbiamo anche identificare allora la prima cosa che loro hanno affrontato era la persecuzione e già è stato chiaro per voi per me per te che erano perseguitati per quale motivo perché hanno fatto un miracolo nel nome di Gesù guarda con me nel versetto 1 che mentre stanno parlando con il popolo immagina la scena sono a Gerusalemme il luogo centrale di adorazione del popolo di Israele città sottoposta al governo di Roma e loro che esaltano tutto il popolo contento perché hanno visto un paralitico che mai camminato nella vita che ora cammina davanti a tutti quanti che esalta Dio che fa i salti ma come è possibile quindi era innegabile questa cosa però c'era gente a cui non era piaciuto questa cosa versetto 1 mentre parlavano al popolo giunsero i sacerdoti il capitano del tempio e i saducei quindi qua ci sono almeno tre tre situazioni diverse avete visto versetto 1 i sacerdoti che erano quelli che servivano nel tempio numero 2 il capitano del tempio che serviva appunto per la guardia del tempio e i saducei voi vi ricordate che erano i saducei i sacerdoti erano di linea un po' più tradizionalista come era giusto che fosse in quel momento più ortodossi per così dire però i saducei erano ebrei di mentalità ellenica greca questi erano uomini che avevano avuto soprattutto da quando Alessandro Magno aveva dominato tutto il mondo antico compreso Cano quello che viene chiamato la Palestina allora molti ebrei che erano dispersi incominciavano a parlare più il greco che l'ebraico l'ebraico praticamente si erano dimenticati e usavano piuttosto l'aramaico e usavano piuttosto il greco e l'ebraico era utilizzato dentro della sinagoga e questi uomini di ebrei ma di influenza ellenica greca non credevano alla risurrezione dei morti guarda quello che c'è scritto qua sempre nel versetto 1 versetto 2 indignati perché essi insegnavano al popolo e annunziavano che cosa in Gesù che cosa annunciavano gli apostoli la risurrezione in Cristo Gesù quello che io vorrei già subito fare un'applicazione per la nostra vita quando tu preghi preghi a Dio quando predichi la parola alle persone dicendo Gesù è la via la verità e la vita quando tu dici alle persone che non c'è ossia che c'è la vita dopo la morte e non parlo di reincarnazione ma di una vita vera una trasformazione del tuo corpo e una vita con il Signore per sempre oggi se tu vai qui a Rimini ovunque vada tu stai sicuro che molte persone non accetteranno il tuo messaggio o il messaggio del nostro Signore Gesù come puoi garantire e gli apostoli hanno affrontato opposizione e tu io affronteremo oggi domani forse ancora di più opposizione perché predichiamo la vita eterna in Cristo Gesù e questo cari caro fratello sorella se noi siamo stati confinati per tanti mesi e abbiamo comunque e ovunque predicato Cristo usando tanti modi diversi internet e cose varie noi dobbiamo per chi sta arrivando adesso nella vita con Cristo ma per chi già è battezzato e segue a Cristo da anni bisogna capire ricordarsi che deve comunicare sempre lo stesso messaggio quello che mi mi spaventa che mi lascia perplesso è che a volte vedo predicatori a volte dei credenti che cercano un po' vista l'oppressione e pressione che c'è attorno a loro cercare un po' di limare il Vangelo cercare un po' di accontentare alle persone come per esempio una cosa che è molto comune nei nostri giorni è quella cosa che per esempio il Dio dei musulmani o gli dei degli induisti o Buddha o Mahometo o Gesù Cristo tutti è lo stesso Dio con nomi diversi sai questa cosa quando si parla per esempio di ecumenismo e tante altre cose che sono tentativi per sminuire la persona di Gesù ma gli apostoli che cosa hanno fatto noi predichiamo che è Cristo Gesù che porta la risurrezione e poi la cosa difficile è che guarda versetto 3 tu predichi Cristo arriva uno che non è d'accordo con te e spesso sai che cosa accade soprattutto nei nostri giorni quelle che dicono che sono tolleranti sono i meno tolleranti quelle che dicono a tutti noi dobbiamo accettare tutte le opinioni degli altri sono quelle che quando tu vuoi dire che è Cristo Gesù il Messia che lui è il Signore saranno i primi a dire no non lo puoi dire questo perché se io dovesse andare sulla RAI dire che è Gesù Cristo il Signore il Salvatore che non è una chiesa che non è il Vaticano per esempio cari miei state tranquilli che mi fanno fuori non parlerò mai più da nessuna parte e sicuramente avrò delle minacce probabilmente forse sì forse no non lo so però una cosa è certa cari noi dobbiamo abbiamo un messaggio dobbiamo predicare Cristo ma dobbiamo aspettarci prove persecuzione prove per la vita del credente e nemmeno per questo noi dobbiamo molare versetto 3 che cosa accade sempre in questo punto 1 misero loro le mani addosso quindi ossia già sono arrivati con la prepotenza misero loro le mani le gettarono in prigione quindi come due cani due animali li hanno buttati Pietro e Giovanni uomini semplici ma come noi vedremo tra poco pieni dello Spirito Santo predicando la parola del Signore io mi auguro nel Signore che questo non accada qui in Italia ma in Italia già è successo questo molte volte soprattutto nel Medioevo e magari più tardi vi farò un esempio di questo ossia di gente che ha predicato Cristo che è stata perseguitata oggi se tu vai in un paese come la Siria o in paesi islamici tu sei chiamato un nun un nun sarebbe quello che segue Cristo che è un cristiano e se tu hai questo loro prendono la bomboletta fanno questo segno davanti a casa tua e tu sai che lì habita un cristiano e c'è una prova molto difficile se tu pensi per esempio in paesi dove la toleranza è praticamente zero allora dove i cristiani sono perseguitati sono stati uccisi recentemente se tu vai in Cina la Cina è una potenza economica ma è una potenza di oppressione contro la Chiesa di Cristo dove i cristiani sono perseguitati dove adesso il sistema moderno il riconoscimento facciale il punteggio che le persone hanno perché non so se siete al corrente tu hai dei punti prima solo i punti per la patente come qui in Italia adesso l'essere umano la persona il cittadino ha un punteggio e se tu sei un cristiano se ti incontri con altre persone io ti posso fare come si dice in italiano quando faccio la spia e dico guarda lì c'è un cristiano io prendo dei punti e l'altro può magari andare anche a essere arrestato perché è un cristiano quindi cari non pensate che stiamo parlando di cose che sono successe duemila anni fa che non accadono nei nostri giorni c'è una maniera la tecnologia sarà usata come già è usata per mettere oppressione e tagliare la voce a coloro che vogliono predicare Cristo di questo io ne sono convinto quindi state attenti noi dobbiamo usare usiamo molto la tecnologia ma il nemico vuole dominare lui non è onnipotente lui non è onnipresente lui non è onnisciente questo attributo appartiene al Signore amèn lui cosa fa allora utilizza tutto questo e con la scusa che per adesso magari per tante minacce che esistono nel mondo mette paura nella gente la gente si sottomette ma in effetti è un sistema per cercare di dominare le persone però vedete che nonostante questa prova che hanno avuto guarda il raccolto che hanno avuto questi uomini versetto 4 molti di coloro che avevano dito la parola crede non tutti ma molti e allora il numero degli uomini salì a circa 5.000 la chiesa di Cristo cresce e più c'è persecuzione la chiesa che più cresce nel mondo è in Cina dove ho appena detto che c'è più prova più persecuzione è una chiesa che probabilmente non ha una sala attrezzata come la nostra sono chiese sotterranie sono chiese nascoste sono chiese nelle case magari si incontrano durante la notte e non bisogna andare molto lontano la Romania per esempio quando era ancora sotto il regime comunista se non mi sbaglio di Cialcesco ossia ha provato non poche prove e parlando con dei fratelli rumeni che vivono in Italia loro mi hanno raccontato quante volte si incontravano di notte 3 alle 4 del mattino per adorare per pregare a Dio mentre gli altri dormivano loro andavano a cercare il Signore perché? perché c'era la persecuzione allora un credente io non voglio la persecuzione né per me né per te ma se dovesse capitare come sarà la mia reazione? allora che Dio abbia misericordia di noi e che noi non diciamo mai Signore Signore perché sono perseguitati perché il Signore ha detto che è beatico loro che saranno perseguitati perché il Regno dei Cieli è nostro allora l'altra cosa l'altro aspetto l'altra qualità importante oltre a essere pronto per la persecuzione è quella della nostra predicazione voi vedete per esempio dal versetto di numero 5 che il concilio dei capi dei anziani sacerdoti gli stessi uomini che hanno condannato Gesù Cristo a morte gli stessi si sono riuniti di nuovo guarda che cosa interessante Gesù Cristo è stato messo nel Sinedrio per essere giudicato e condannato chi segue a Cristo qua noi abbiamo Pietro e Giovanni loro nello stesso Sinedrio quindi se hanno perseguitato Cristo adesso sono gli apostoli un domani potrò essere io magari un domani potrai essere te noi speriamo sempre di no però guardate bene qua il giorno seguente versetto 5 i loro capi con gli anziani e gli iscrivi quindi tutto il clero diciamo così del popolo ebreo si riunirono a Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote il più grande sommo sacerdote Caifa Giovanni Alessandro e tutti quelli che appartenevano alla famiglia dei sommi sacerdoti e fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni domandarono con quale potere e in nome di chi avete fatto questo ossia la gente dice ma come ti permetti in Italia in italiano sarebbe più così in mezzo alla strada una lingua corrente ma come ti permetti di dire queste cose con quale autorità tu stai parlando perché da dove viene proviene tanta convinzione che tu hai perché noi abbiamo visto che avete della convinzione e allora questi uomini questo Pietro e questo Giovanni loro hanno fatto vedere a questi uomini che erano il sinedro e tutto il clero Pietro e Giovanni qui c'è una grande cosa che noi abbiamo bisogno di capire per la mia e per la tua vita versetto di numero 8 allora Pietro pieno di autorità e così c'è scritto nella Bibbia guardate nella Bibbia che cosa c'è scritto pieno pieno di rabbia Pietro pieno di pieno di cari scusate ma avete le mascherine non riesco a sentire pieno di cosa pieno di cari per fare l'opera di Dio bisogna essere pieno di Dio perché senza la potenza di Dio alla prima prova io squaglio come un gelato sotto il sole a mezzogiorno se noi non abbiamo lo spirito santo di Dio noi non possiamo resistere e quando tu dici signori io non voglio la prova non voglio la persecuzione Fabiano ma tu non potevi scegliere un altro messaggio da predicare stamattina per dire non un messaggio solo di speranza di pace di tranquillità cosa che il Signore ce lo dà assolutamente però cari anche questo fa parte della vita cristiana e se tu un domani o io dovessi affrontare una situazione del genere tu stai tranquillo che il Signore sarà con te naturalmente io devo essere con il Signore io devo camminare con il Signore e la vitamina BPC che io torno sempre a ripetere chi non lo sa te la dico è Bibbia preghiera e comunione fraterna non ti costa nulla è sempre disponibile non c'è nessun tipo di controindicazione e più prendi la BPC Bibbia preghiera e la comunione fraterna più dello Spirito Santo avrai nella tua vita e guardate che cosa dice la parola questo Pietro pieno dello Spirito Santo l'uomo che aveva rinegato il Signore poco circa 60 giorni prima anche più o meno all'incirca capi del popolo e anziani se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo lui dice per sapere come questo uomo è stato guarito che sia noto a tutto il popolo di Israele per dire a livello nazionale che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo quindi lui non solo è pieno dello Spirito Santo ma lui dà gloria a Dio quando il Signore ti usa per fare un'opera potente quando parli di Cristo e una persona viene trasformata e tu sei contento non dirà ho fatto io ho parlato io non so se mi spiego questo non è la volontà del Signore il Signore sta dicendo per noi per l'esempio di questi uomini per la loro predica quando io predico io devo dare gloria a Dio ci sono predicatori che appunto si vogliono esaltare o vogliono magari mettersi come se fossero più importanti degli altri questo non è quello che il Signore vuole quello che lui vuole la gloria appartiene al nostro Signore amén e lui dice questo Cristo Gesù che voi avete crocifisso ma che Dio ha risuscitato lo stesso messaggio di prima che i Sadducei non volevano sentire perché non credevano nella vita la vita eterna nella risurrezione dei morti Pietro continua a predicare lo stesso messaggio è la sua virtù che questo uomo sia in virtù di Cristo che questo uomo compare guarito in presenza vostra e lui dice lui è la pietra angolare vi ricordate quando Gesù Cristo ha detto tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa purtroppo c'è l'interpretazione che dice tu sei Pietro nel senso che tu sei la roccia su cui la chiesa sarà costruita è un'interpretazione sbagliata perché Pietro Petros no? vuol dire sasso tu sei un sasso ma su questa pietra ossia su Cristo io edificherò la mia chiesa Pietro che cosa fa qua? lui sta rispondendo per noi Gesù Cristo è la pietra angolare quella pietra che sostiene ogni cosa colui che sostiene la chiesa su cui oggi noi possiamo vivere e avere il Signore con noi e lui continua dicendo lui è la pietra angolare e nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati il cristianesimo il cristianesimo il nostro messaggio è esclusivista e questa è una cosa che non garba alle persone oggi perché ognuno vuole avere voce in capitolo quando si parla dell'aldilà della salvezza della risposta per il nostro essere però l'essere umano deve comprendere che è un pecatore e che c'è solo un modo e non due non tre per essere trasformato Pietro sta dicendo che Gesù è la pietra angolare e nessun altro è la salvezza se non nel nome di Gesù Cristo voi sapete il nome Yeshua dall'ebraico il nome di Gesù che cosa vuol dire no? Dio salva è Cristo è colui è il Messia l'unto di Dio colui che salva e lui parla di questa salvezza sovrannaturale realizzata nella vita dell'uomo che il Signore ha manifestato il suo regno nel nome di Gesù nella vita di questo uomo paralitico non solo fisicamente ma questo uomo ha creduto e ha creduto e quindi lui che prima era un peccatore separato da Dio ora ha comunione con il Signore e glorifica il nome del Signore e oggi noi possiamo ricordare anche le parole del nostro Signore Gesù in Giovanni capitolo 14 versetto 6 che dice io sono là via la verità e la vita nessuno viene al Padre se non permesso di me allora io non predicherò mai e neanche te che è la Chiesa che salva che è Fabiano che fa i miracoli sai queste cose cari ci sono a volte cose che mi lasciano rattristato quando c'è magari anche il nome del predicatore o del pastore come se fosse il ministero di Pingo Palino come se fosse lui o lei che provocano che possono rilasciare potenza questa cosa non è biblica l'unico questi uomini che hanno vissuto con Gesù hanno toccato hanno visto i miracoli non hanno mai detto io sono Pietro il ministero dell'apostolo Pietro il ministero dell'apostolo Giovanni io faccio i miracoli sempre nel nome di Gesù sempre per la gloria di Gesù è sempre un messaggio cristocentrico che predica Cristo quando tu non sai dire alle persone che signore adesso ho un'occasione di parlare con una persona e non so che cosa devo dire sai può venire cinque minuti e dire cosa devo dire a quella persona che vedo che ha bisogno di conoscere la parola che cosa devo dire parla di Gesù quando tu non sai cosa dire parla di Gesù io dico sempre anche a un predicatore lo dico a me tutti i giorni se io dico ma signore che cosa devo predicare domenica parla di Cristo Gesù predica Cristo Gesù e allora non sbaglierai mai porta gloria al Signore porta il messaggio del Signore e tu vedrai che c'è questa manifestazione quindi noi dobbiamo aspettare la persecuzione io devo capire bene qual è il contenuto del mio messaggio se c'è curiosità da parte degli altri parla di Cristo predica Cristo e naturalmente il Signore tu vedrai se è la potenza che il Signore manifesta nella tua vita e poi c'è la potenza che Dio rilascia in noi come i suoi strumenti per la sua gloria versetto di numero 13 essi vista la franchezza di Pietro e Giovanni ossia Pietro e Giovanni hanno parlato al Sinedrio quando si sono fermati hanno concluso di predicare di parlare di condividere quando hanno visto la franchezza di Pietro e Giovanni si meravigliavano perché avendo capito che erano popolani gente semplice non avevano un dottorato all'università di Bologna non erano andate a studiare a Harvard ossia non erano persone abbastanza semplici senza istruzione ma una cosa c'è qui che hanno riconosciuto riconoscevano che erano stati con Gesù quando la gente guarda a me e guarda a te riescono a vedere che noi siamo stati con Gesù la gente riesce a vedere riesce a comprendere che noi abbiamo Cristo nel nostro cuore dicono guarda te hai una cosa che io non ce l'ho tu hai qualcosa di diverso ossia la tua maniera di parlare la tua maniera di lavorare la tua maniera di crescere la famiglia non sto dicendo che siamo perfetti perfetto è il Signore però si vede che c'è questo desiderio di crescere di morire per se stesso di fare per la gloria del Signore allora questa è la prima potenza la prima caratteristica che noi dobbiamo avere quando noi parliamo della potenza di Dio manifestata nella nostra vita e non solo questo ossia la manifestazione della potenza di Dio era anche dimostrata nell'esempio del segnale il segno miracoloso che il Signore aveva fatto versetto 14 vedendo l'uomo che era stato guarito lì presente con loro quindi immagina la scena c'è Pietro c'è Giovanni e c'è il paralitico che non ha parlato ma la sua vita parlava come se fosse in un megafono perché l'uomo che prima non camminava ora salta vedendo l'uomo che era stato guarito lì presente con loro non potevano dire niente in contrario non c'è persona al mondo scienziato al mondo che possa dire io non credo a quello che tu sperimenti nella tua vita con il Signore io non c'è persona al mondo che possa dire io non riesco ad accettare questa fede questa trasformazione che è nel cuore magari lui come scienziato dice vuole analizzare Dio come se fosse portare un qualcosa in un laboratorio per essere analizzato però non può negare la trasformazione di una persona che prima non aveva un motivo per vivere e oggi ha la gioia e oggi cammina e oggi vive e ha la gioia di vivere una vita che porta gloria a Dio questo nessuno lo può negare e io e te oggi se noi abbiamo sperimentato Cristo nella nostra vita se tu non sai cosa dire alla persona parla di Cristo e parla di quello che Cristo sta facendo nella tua vita perché non c'è nessuno che può magari non credi in Dio ma non può negare quello che il Signore ha fatto nella tua vita come non potevano negare quello che il Signore aveva fatto nella vita di questo parla non potevano negare erano la creme della creme il top degli ebrei del clero ebraico che c'era lì a Gerusalemme e loro non potevano dire assolutamente niente e non solo questo la potenza che questi uomini hanno avuto è che dopo aver ordinato loro versetto 15 di uscire e di si sono consultati tra di loro hanno detto ma noi che cosa faremo con questi uomini allora loro dicono guarda noi facciamo in modo che loro non parlano più a nessun'altra persona ma Pietro versetto 19 che cosa fa e Giovanni rispose loro giudicate voi se è giusto davanti a Dio obbedire a voi anziché a Dio quindi la potenza della predica ha dato a loro la caratteristica di un vero cristiano la resilienza la perseveranza la costanza quando una persona magari quando la fede non è vera squaglia ma quando la fede è vera questa persona persevera non è un credente perfetto ma la sua fede nel Signore lo rende perfetto davanti a Dio per mezzo dell'opera dello Spirito Santo Dio usa le cose più ignobili di questo mondo per portare gloria al nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo e noi dobbiamo rimanere centrati noi viviamo in un tempo adesso è estate stiamo vivendo abbiamo la mascherina però viviamo come se non ci fosse stata la pandemia nel senso siamo un po' più rilassati però caro io non so che cosa mi aspetta il futuro ma io so che il Signore è con me che io so che il Signore è con te e io so che noi dobbiamo rimanere perseveranti e avere questa potenza nel Signore e continuare a predicare il nome del nostro Signore Cristo Gesù perché questa è la volontà del Signore e noi sappiamo cari che alla fine ossia Dio sarà comunque glorificato versetto 21 ed essi minacciatoli di nuovo li lasciarono andare non trovando assolutamente come poterli punire a causa del popolo perché tutti glorificavano Dio per quello che era accaduto magari la gente non crederanno tutti in Cristo però quando guardano me guardano te devono portare gloria a Dio un credente deve essere credente non solo quella domenica ma soprattutto fuori nel mondo perché quando guardano i credenti non devono dire lui va in chiesa ma guarda come si comporta lui dice che predica Cristo ma ruba lui dice che predica Cristo ma mente lui dice che predica Cristo ma è un adultero queste cose non devono appartenere alla nostra vita noi dobbiamo essere umili noi dobbiamo essere perseveranti noi dobbiamo essere pronti per la persecuzione dobbiamo avere un contenuto ben preciso del nostro messaggio avere questa potenza dello Spirito Santo e lasciare che il Signore possa operare grandemente nella nostra vita c'è un italiano che in particolar modo forse anche due posso citarne anche due uno Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola non so se avete mai sentito parlare di questo uomo lui è che è nato a Ferrara quindi qua un emiliano il 21 di settembre del 1452 ed è morto a Firenze nel 23 di maggio nel 1498 era un parroco era un parroco era un prete qua stiamo parlando prima della riforma protestante e lui è appartenente all'ordine dei frati dominicani nel 1497 lui fu scomunicato dal papa Alessandro VI e dopo un anno dopo è stato impiccato e bruciato sul rogo come eretico perché lui aveva predicato cose nuove e lui che cosa ha fatto? una delle cose che ha fatto Girolamo di Savonarola era predicare il libro dell'Apocalisse il Signore Gesù sta tornando ravvedetevi venite al Signore e questo uomo che ha detto guarda che noi ci dobbiamo rinnovare perché il Signore sta venendo ossia lui non si è spostato di un millimetro ma ha predicato Cristo il Signore in questo momento ha permesso che lui fosse impiccato ucciso arso come un pezzo di legno ma neanche per questo lui non è stato salvato per mezzo di Cristo Gesù un credente che è rimasto fedele Pietro e Giovanni sono stati liberati perché ancora avevano molto da fare e così è stata la volontà di Dio quanti uomini e donne sono stati uccisi a causa del nome di Cristo vi voglio citare adesso un romagnolo c'è anche un romagnolo Fanino Fanini Fanino Fanini che ha vissuto a Faenza nel 1520 è nato nel 1520 e lui che nel 22 di agosto nel 1550 a Ferrari quindi era giovane è stato impiccato perché credeva nel nome di Gesù è stato bruciato è stato vittima dell'inquisizione cattolica e dall'interrogatorio che lui ha subito allora lui che cosa ha fatto lui dice lui predicava soltanto Cristo dicendo che noi dobbiamo credere nel Signore ha predicato il messaggio del Vangelo niente di più niente di meno ha predicato Cristo Gesù allora la storia della parola di Dio voi vedete dico la storia della chiesa di Cristo dicendo meglio incomincia qua in Ati c'è Ati capitolo 28 mi potete aprire in Ati capitolo 29 per favore Ati 29 e chi ha trovato dica Amen Ati 29 come non c'è ma è incredibile veramente non c'è cari noi siamo Ati 29 noi siamo la continuità della storia di Cristo della chiesa di Cristo perché se tu leggi Ati in una seduta vedrai che non è che c'è una conclusione noi siamo la continuità e la continuità finché il Signore Gesù tornerà io non so se sarà un girolamo perché oggi tra poco non si potrà neanche dire no a meno in Italia che una famiglia è formata da un uomo e una donna e questi saranno modi di perseguitare la chiesa di anche un pastore anche un credente e tu da quale lato rimarrai dobbiamo limare il Vangelo dobbiamo cambiare dobbiamo adattarci dobbiamo diventare una chiesa di stato o dobbiamo essere una chiesa piena dello Spirito Santo è una scelta che io e te dobbiamo fare e noi prima che arriva l'inverno io prima devo immagazzinare la legna no per prepararmi prima che arrivano le prove io mi devo preparare con il mio Signore perché Lui mi possa fortificare nel tempo giusto tu sei pronto preghiamo Signore Signore io ti ringrazio immensamente per la tua parola che in maniera semplice Signore ma potente parla la nostra vita trasforma il nostro cuore Signore io prego che nel nome di Gesù Cristo se ci sono persone qui che ancora non hanno conosciuto Cristo che possono venire a Cristo perché in nessun altro c'è la salvezza se non nel nome di Cristo Gesù che è morto ed è risorto e oggi vuole vivere nel nostro cuore Signore manda lo Spirito Santo su queste care persone è per noi che siamo in Cristo riempici dello Spirito Santo ogni giorno di più affinché possiamo essere forti saldi avere il coraggio l'audazia avere la perseveranza la costanza l'umiltà la dipendenza che hanno avuto l'autorità nel nome di Gesù Cristo il Nazareno come ha avuto Giovanni come ha avuto Pietro e come dobbiamo avere anche noi Signore proteggici e fa che possiamo apprescendere nel momento di calore nel momento di freddo che possiamo affrontare nella nostra vita che possiamo essere sempre saldi nel Signore continua a usare la vita di questa Chiesa e che possiamo Signore predicare Cristo in questa città in questa provincia in questa nazione nel nome di Gesù Amen e il popolo di Dio dice Amen Gloria a Gesù Gloria Grazie a tutti Grazie a tutti